E la mattina di venerdì scorso è deceduto Don Filippo Gasparrini, ufficiante presso la parrocchia della Mascarella e postulatore della causa di beatificazione di Giuseppe Fanin. Era nato 87 anni fa ad Acquaviva Picena ed era entrato giovanissimo nella congregazione dei passionisti e all'interno della comunità religiosa fu insegnante di teologia di francese e di lettere. Visse alcuni periodi in Francia e in Germania, per motivi di studio si laureò in lettere a Bologna e fu anche preside dell'istituto teologico di Chieti. Nel 1978 giunse a Bologna nella comunità della Certosa e nel 1990 ottenne dalla Santa Sede la possibilità di essere iscritto nel clero della nostra diocesi, servendo fedelmente la parrocchia della Mascarella. Autore di numerose pubblicazioni di carattere storico, partecipò anche alle indagini canoniche sui sacerdoti trucidati a Montessole. Le esecue sono state celebrate lunedì dal vicario generale.